Annaculiamento a partire da Baborto! Buonasera, bentrovati! Siamo sempre qui sul palcoscenico del Teatro ABC di Catania. Eccomi qua! Parlavate di me? Mettetevi comodi, noi siamo pronti! Proprio per andare a conoscere lui, Don Procopio Mballacchieri. Pronti per un altro vestro siciliano! Chi è di scena? Le grandi opere del Teatro Siciliano? Questa settimana propone Il Contraveleno di Nino Martoglio, domenica alle 15.15. Alla prossima!